Buongiorno ragazzi, l'altra volta ci siamo interrotti proprio al pelo e niente, abbiamo trovato una fantastica scorciatoia allora adesso andiamo avanti e scassiamo il culo a tutti ragazzi andiamo avanti, pestiamo gente di ogni genere e via e via raga qua c'è l'ascensore non so se abbiamo capito raga che qua c'è l'ascensore beh allora adesso è un po' diversa, è la situazione perché con l'ascensore sai riusciamo già a sentirci più nelle nostre corde ok ottimo cazzo è ancora io quello ah no minchia ma puttana bastarda non me ne sono accorto ero io che stavo morendo come uno stronzo ma scusate ragazzi che figlio di merda va ben uguale raga dai non è successo niente non è proprio successo niente perché insomma che figura ragazzi che figura di merda vabbè fa niente dai torniamo qui si alcune texture fanno abbastanza cagare comunque va bene egalitar va bene ah quindi se vai su quei cosi perdi energia perdi vita e va bene quindi bisogna camminare tutti stuerti un po' di qua un po' di là un po' di su un po' di giù ok questa è guasta ancora per un po' ah questo però si sblocca bene finalmente incominciamo a sbloccare cose è fantastico non so se si è aperta la porta adesso e di fatti e di fatti la porta adesso è aperta questo è l'area riciclo uuuuuh occhio perché qua mi ha aperto un'altra scorciatoia sicuro quindi vuol dire che è piena di nemici lasciamo perdere ma tanto c'è la scorciatoia va bene ecco che culo quindi sta cosa dove mi portava ah niente proprio vabbè ok fa niente tanto questa era l'area riciclo abbiamo preso tutto questa mi sembrava ripeto una si 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 ma questa è la questa è la scorciatoia ma a noi non interessa adesso scorciatoia quindi possiamo tranquillamente andare via di qua e proseguire di qua sotto ottimo altra roba uh qua mi sa che c'è un boss eccolo eccolo allora ottimo perché sul momento non abbiamo la più pallida idea di come far fuori sto figlio di puttana ve lo dico ragazzi molto onestamente scusatemi dica bro a casa sogno eh dai dai va bene io nel frattempo mi preparo dai ciao eh non lo so non ho guardato ma penso di no fai un po' un giro ma non lo so ok dai ciao ok ragazzi torniamo a noi altre armi ancora armi armi su armi su armi attenzione questo è pure affistaggio singolo ragazzi si si questo è pesante è la terza arma affistaggio singolo che abbiamo trovato queste aumentano la resistenza pure ottimo questo riduce il dispendio di resistenza per bloccare gli attacchi tanto non blocco mai mmm mmm babà oh queste sono buone gli aggambi abbiamo liquidator liquidator ma è pesante leggera che se come cazzo è boh lynch vabbà in agenda abbiamo altre cosine ok siamo messi così eh mmm si che avrei però lì non posso più fare no fanculo ok ottimo livello 41 e non se ne parla più questi li rimettiamo al suo posto poi possiamo potenziare qualcosa ragazzi questo è potenziabile questo invece no ok e anche questo e via sì questo è meglio eh ragazzi quindi niente da dire quello è sempre meglio va bene dunque adesso l'abbiamo girato per lungo e per largo abbiamo fatto praticamente tutte le cose che potevamo farci ci è rimasto il boss da affrontare faccio un giro dal boss per vedere se riesco ad arrivarci ok giusto giusto per vedere come siamo messi col boss meno male che gli ascensori tornano sempre al loro posto meno 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 male allora adesso come ci andavamo dal boss facendo facendo dei giri un po' del cazzo mi ricordo ok 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 fantastico questo è ancora chiuso senza neanche sapere perché tra l'altro ah vedi che te lo dice che c'è il boss a modo suo ma te lo dice vedi che ti fa entrare come nella nebbia e poi non ti fa uscire ai ah ah Ma il fatto che Gli tolga proprio così un cazzo è normale Secondo voi ragazzi No chiedo per un amico eh Perché Cioè non so se è proprio così Normale Che gli tolga così poco Niente raga Boh Boh non so Ok vabbè raga E niente ci vediamo la prossima volta Avremo perso 2000 animuzze Ma fa niente Tanto quelle non le potrei recuperare lo stesso Quindi Quindi ragazzi Niente Alla prossima Puntata ragazzi Arrivederci Ciao ciao